Martedì prossimo a Napoli una manifestazione sui trasporti marittimi, ne parliamo con Nicolà Lamonica, di cosa si tratta? Una manifestazione che l'Altomare indice a porta di massa alle ore del 9 del mattino, quindi una stazione di porta di massa, per sensibilizzare l'opinione pubblica ancora una volta sulla tematica dei trasporti. A profitto dell'occasione che c'è uno sciopero in atto, in quello giorno c'è uno sciopero dell'Orsa, i lavoratori marittimi Caremar sono sotto stress per turnazioni indecorose, indegne di una civiltà nuova e quindi approfittiamo di questa occasione, c'è uno sciopero quindi Caremar abbastanza significativo e il secondo tentativo che fa l'Orsa, il primo è riuscitissimo, oggi ci troviamo di fronte ancora una volta a un dipendente che diviene stressato dall'attività lavorativa imposta in modo unilaterale dall'azienda. Ecco allora l'Orsa è in sciopero, i lavoratori pure, l'Altomare indice un'assemblea di sensibilizzazione coinvolgendo le forze politiche e sindacali ma anche sociali della regione Campania e dei comuni dell'Israelisca Proce e Cap perché si abbia finalmente un confronto aperto alla presenza dei lavoratori.